Io volevo scoprire le meraviglie del listino, che cosa vedremo nel secondo semestre del 2017 e oltre? Da dove devo cominciare? Abbiamo abbastanza prodotto. Cominciamo con Kingsman, il grande ritorno di Kingsman. Il primo è andato benissimo in tv, è andato benissimo su digital television e noi spendiamo molto su questo film con un grande protagonista di Colton Firth, Julian Moore. Credo che Matthew Vaughn ha fatto un film di eccellenza, di un comedia, però una grande azione pura. Poi andiamo al murder on the Orient Express, un film con un grande cast. Brennan come un regista e un protagonista attore e un cast, non so da dove devo cominciare, però Johnny Depp, Judy Dench, Michelle Pfeiffer finisce quasi mai, è una grande attesa per questo film. E poi abbiamo pure un grande film in cartone animato, Ferdinand, da Blue Sky Studios, che hanno presentato Ice Age e Rio e questo è il nostro offerto per Natale e non finisciamo qui perché abbiamo anche il film di Hugh Jackman, The Greatest Showman, che esce al primo gennaio. E non solo questo, anche dal Searchlight abbiamo un grande film come Three Bilbo's da Missouri, dal regista di Imberush, che è andato benissimo qui in Italia, con McDormand, come un protagonista, abbiamo The Mountain Between Us, abbiamo Gifted, forse non direi troppo, ma abbiamo un'offerta per tutti, per adulti, per giovani, per appassionati del film di qualità e anche appassionati del film di azione. Siamo veramente orgogliosi di presentare questo listino.